In occasione della giornata indenazionale della pace, il Rotary Club Caltanissetta ha esposto la bandiera simbolo della pace nel municipio di Caltanissetta. Il Rotary Club di Caltanissetta, con l'esposizione del municipio di Caltanissetta e la bandiera simbolo della pace insieme a quella delle Rotary, inizia le molteplici attività di promozione della pace che si concluderanno il 27 ottobre, con la rappresentazione teatrale della commedia La pace, tratta dall'omonima opera di Aristofane e portata in scena al Mongada Rosso di San Secondo dalla compagnia di Aldo Rapè.